Che idea ti sei fatto di quanto sta avvenendo in Lombardia, in alcune città? Abbiamo raccontato Cremona, ma problemi ce ne sono stati a quanto mi consta anche a Como e a Brescia. Ma qui è però un anno che va avanti così. Non è la maledizione della Lombardia un fatto degli ultimi giorni. Qui è esattamente un anno che l'efficienza, l'eccellenza lombarda ha messo in fila un filotto di disastri. Perché non hanno chiuso in tempo il focolaio di Alzano e Nembro, generando migliaia di morti. Non hanno fatto scorta di vaccini anti-influenzali, per cui gli anziani non sono stati vaccinati neppure contro l'influenza. Poi hanno comperato dei camici dal parente, dalla moglie e dal cognato del presidente Fontana, presidente della regione Lombardia. Poi le USCA hanno fatto saltare il tracciamento dei contagi. La gente veniva abbandonata, positiva in casa, senza nessuno che andasse a vedere cosa c'era in quelle case, con la gente chiusa per settimane, settimane, settimane. Ora siamo un ospedale in fiera in cui sono stati buttati 20-30 milioni di euro, che è servito per 200 persone. Mi pare che sia stato riaperto, Gianni, quell'ospedale. Magari ne avessero fatte altri. Mandando però all'ospedale in fiera i gruppi di infermieri e medici degli altri ospedali, quindi togliendoli agli altri ospedali. Li lasciavano agli altri ospedali e ero uguale. Un disastro completo. Io, se vuoi, ti racconto la mia esperienza, perché siccome non ci credevo che dopo un anno, perché capisco, Alzano e Nembro non erano pronti e hanno fatto il disastro, era tutta colpa di Gallera e adesso l'hanno cacciato. Ma non è così, perché un anno dopo il disastro continua. Allora io venerdì che cosa ho fatto? Sono andato all'ospedale in fiera e mi sono messo in fila, facendo finta di essere uno degli insegnanti che erano lì in fila per la vaccinazione. Sono arrivati gli sms, in quel caso, con l'orario per la vaccinazione. Ora, se fai gli appuntamenti con degli sms, cosa devi fare? Devi fare un calcolo così preciso da non creare code, perché altrimenti è inutile. Tu affolli centinaia e centinaia di persone in code, in ambienti ristretti, che sono esattamente un rischio per chi va lì. Allora, io mi sono messo pazientemente in coda. Ho fatto due ore e mezzo di coda. C'era la coda che faceva due piani dell'ospedale, perché ci si vaccina al secondo piano, e giù in strada arrivava fin quasi alla circonvallazione. Ho fatto la foto, il video che ho postato dei social, come si usa adesso, per dimostrare questa cosa. C'erano centinaia di insegnanti in coda. È un disastro. Se la Lombardia è questo, io mi chiedo com'è possibile che poi quello che è responsabile di questa situazione, e cioè l'assessore Moratti, invece di dire, cari Lombardi, scusa, scusatemi, non siamo capaci, no, se la prende con aria, con se stessa, perché non è che i cittadini sanno la differenza tra l'assessore e le strutture dell'assessore. Qui abbiamo la cosa inedita, per cui un assessore, se la figlia con la sua struttura, e dà la colpa, scarica sui dipendenti, e come se un ministro dicesse, il mio ministero fa schifo, dimettiti se fa schifo, dimettiti. Allora, ci fermiamo. Gianni, perdonami un momento, ci dobbiamo fermare.